La differenza in un'amministrazione nuova che speriamo possa riuscire a dare all'Umbria una speranza alternativa. Abbiamo visto una realtà purtroppo devastata, massacrata dalla clientela, dagli interessi di parte e noi speriamo invece di poter costruire un futuro nell'interesse dei cittadini Umbria. C'è qualcosa da dire a Matteo Salvini nel senso che sembra praticamente il presidente della legione Umbria, parla sempre lui? Io questo non lo so, credo che stia facendo campagna elettorale per quello che mi riguarda, io sono concentrata appunto sul lavoro che Fratelli d'Italia può fare, contiamo su una squadra di persone assolutamente preparatissime, competenti che per l'Umbria hanno già lavorato tanto, ma anche su innesti di mondi delle professioni, dell'impresa, della società civile. Questa è una regione che deve trovare insieme il coraggio di rialzarsi perché è drammatico che si parli di una regione così straordinaria per gli scandali sulla sanità piuttosto che e quindi noi siamo concentrati su questo. Poi ognuno fa campagna elettorale come crede di doverla fare. Ma guardi, questa è un'elezione regionale, noi secondo me non dobbiamo fare l'errore di stogliere l'attenzione dalla cosa importante, la cosa importante è che oggi l'Umbria ha un'occasione, l'occasione di liberarsi da una storica sistema di potere che secondo me ha molto tarpato le ali. Poi rimane che abbiamo dall'altra parte Sinistra e Movimento 5 Stelle continuano a fare tutto quello che è umanamente possibile per fregare i cittadini, per provare a fregare i cittadini. Cosa si aspetta da queste elezioni visto che gli indicatori ci danno in forte crescita? Mi aspetto di vedere riconosciuto un lavoro fatto sul territorio da persone capaci che amano questa regione, oneste, precise, che hanno sempre fatto bene il loro lavoro e mi aspetto per Fratelli d'Italia sul piano del generale nazionale, il riconoscimento della credibilità che ha una forza politica che non ha scelto mai le scorciatoie. Il governo rosso-giallo ancora non ha chiarito se riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'IVA dal 1 gennaio 2020, in compenso sono tutti occupati a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati. Contro questa vergogna Fratelli d'Italia è già mobilitata, giovedì saremo davanti al Parlamento a raccogliere le firme che raccoglieremo in tutta Italia anche nel prossimo fine settimana per dire al Presidente della Repubblica di fermare questo scempio. Siete a Pisco, Squarta, Zaffini, con Cianti e Pacella. Con Cianti e Pacella, Dita? Io con tutti e tre, vado a cena spessissimo con tutti e tre. Grazie. 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 Grazie.